Che il cuore di Michele Fanini fosse grande si sapeva, che fosse immenso, si è scoperto in questi giorni. E la dimostrazione è arrivata da un gruppo di suoi amici, forse ex campioni del ciclismo, forse gli stessi che Michele aveva sempre seguito con grande professionalità e affetto, fino a ricovere un ospedale dell'ottobre scorso, poi risultato purtroppo fatale. Forse sono stati proprio loro a commissionare la realizzazione di un busto raffigurante lo stesso Michele Fanini, un'opera vera e propria fatta da un artista fiorentino, anche lui al momento anonimo, e recapitata a Ivano Fanini, uno dei tre fratelli, gli altri sono Pietro e Brunello, tutti molto conosciuti nel mondo delle due ruote. Un mistero che rende ancora più grande la figura di Michele, impegnato per una vita intera nel costruire le bici su misura a tantissimi campioni delle due ruote, o a chi campione lo sarebbe poi diventato. Basta pensare che da lui sono transitati i giganti del ciclismo come, tanto per citare alcuni dei mille nomi illustri, Mario Cipollini, Michele Bartoli, Franco Chioccioli, Andrea Tafi, i danesi Rolf Sorensen, Bo Larsen e Jesper Worre, Bruno Risi, Pierino Gavazzi, Giovanni Battista Baronchelli, Mario Beccia, Fausto Bertoglio, Giuseppe Martinelli, Stefano della Santa e lo svedese Glenn Magnusson. E chissà quanti altri futuri big del ciclismo internazionale sarebbero passati ancora dalle sue sapienti mani, visto che lavorava sempre non conoscendo la parola pensione e non disdegnando mai di dare una mano a tutti quelli, ed erano tanti che si rivolgevano a lui per un aiuto o anche solo per un consiglio. Con le sue biciclette, con le sue bici messe a punto da lui, sono stati vinti ben 12 campionati del mondo e 76 campionati nazionali. Michele Fanini, lo ricordiamo, è scomparso all'età di 74 anni, all'inizio del novembre 2019.